Dopo anni di lotte e dolore, i miei genitori sono stati assolti. Il fatto non costituisce reato. Sono felice per loro e per tutti noi. Non auguro a nessuno di vivere ciò che hanno dovuto vivere i miei. Non si meritavano tanto odio. Ha vinto la giustizia, ha perso il giustizialismo. Così Matteo Renzi, attraverso i social, ha commentato l'assoluzione dei genitori finiti a processo insieme all'imprenditore Luigi D'Agostino. Il processo verteva su due presunte fatture false, emesse dalla parte SRL e dalla E26SRL, società imprenditoriali gestite dai coniugi Renzi. La truffa aggravata sarebbe stata commessa da D'Agostino perché avrebbe pagato i coniugi di Rignano sull'Arno per lavori inesistenti. Dopo la condanna in primo grado, Tiziano Renzi e Laura Bovoli sono stati assolti dalla Corte d'Appello del Tribunale di Firenze. La pena per l'imprenditore re degli outlet è stata ridotta. Matteo Renzi ha postato sui social anche una foto di famiglia. Tra i primi ad esprimere la propria solidarietà, Maria Elena Boschi. Anche lei finita nell'occhio del ciclone per la vicenda Banca Etruria. Suo padre Pierluigi è finito a processo ma poi anche lui è stato assolto. Sono felice per Laura e Tiziano Renzi. Hanno cercato di distruggere la vita alle nostre famiglie, ma il tempo è galantuomo.